Ho iniziato a scrivere perché non mi sentivo parte di nulla, non mi sentivo parte di nessun gruppo, non mi sentivo capito. Ho iniziato a voler fare musica proprio perché volevo trovarmi con persone che pensassero come me, provassero quello che provavo io mentre cantavo. Mi misi qualche soldo da parte lavorando, i miei mi aiutarono in quello che potevano e comprei questa tastiera. Mi sono sempre fatto un c***o, cioè io adesso non posso rivedermi così, io non ci voglio tornare alla vita di prima. Cioè se mi devo fare il c***o quando uscirò da qui, che sia almeno per la musica. Ogni problema si volta, conosci la scena zero passi da te, che sei parte di me, sento che mai niente, niente, niente cambierà quel che sento.